video lezione di scienze biologia dei viventi apparato circolatorio concetti chiave cuore muscolo che pompa il sangue arterie canali per il sangue ossigenato vene canali per il sangue con co2 circolazione movimento cli ciclico del sangue sangue tessuto connettivo liquido emoglobina trasporta ossigeno sui globuli rossi il vero colore della vita è quello del corpo il colore del rosso nascosto il rosso implicito e non esplicito del cuore che vive e dei suoi battiti è il colore umile del sangue inedito ellis cristiana minor funzioni la diffusione capillare dell'apparato circolatorio permette di collegare ogni parte del corpo e favorire lo scambio di sostanze anche tra le parti non adiacenti con funzione nutritiva e depurativa il cuore è un organo muscolare propulsore del sangue e della linfa è formato da un tessuto muscolare il miocardio ed è rivestito da una membrana il pericardio si contrae involontariamente per circa 70 volte al minuto dette frequenza cardiaca si suddivide in quattro cavità due atri e due ventricoli connesse a coppie per mezzo di una valvola unidirezionale atrioventricolo arterie vene le arterie trasportano il sangue ricco di ossigeno dal cuore agli organi sono robuste e elastiche per resistere all'alta pressione eccezione l'arteria polmonare le vene trasportano il sangue povero di ossigeno dal cuore agli organi sono sottili e poco elastiche con poca pressione eccezione sono le vene polmonari capillari i capillari sono vasi sanguigni posti tra l'estremo terminale di un'arteria e quello distale di una vena misurano dai 5 ai 10 micrometri e consentono loro di effettuare gli scambi gassosi e di nutrienti tra il sangue e i tessuti grande circolazione e piccola circolazione la grande circolazione è la parte dell'apparato circolatorio che ha il compito di inviare il sangue già ossigenato per mezzo della piccola circolazione e ricco di sostanze nutritive raccolte dalle pareti intestinali a tessuti e dalle cellule al cuore la piccola circolazione detta circolazione polmonare è il circuito che dal ventricolo destro del cuore si capillarizza attorno agli alveoli polmonari e torna all'atrio sinistro del cuore tramite le vene polmonari con sangue ossigenato il sangue è composta al 55 per cento da plasma il plasma sanguigno è composta a sua volta principalmente da acqua 92 per cento e proteine 8 per cento e sali minerali serve come mezzo di trasporto per il glucosio i lipidi ormoni i prodotti del metabolismo il restante 45 per cento è formato dalla parte corpuscolasta ovvero particelle solide dette globuli rossi cellule prive di nucleo prodotte dal midollo osseo contengono l'emoglobina che si lega a ossigeno o2 e diossido di carbonio co2 i globuli bianchi che si distinguono invece in linfociti e fagociti sono prodotti dal midollo osseo possono crescere e moltiplicarsi per affermare le infezioni difendere le piastrine favoriscono la coagulazione ovvero la cicatrizzazione delle ferite questo insieme forma il sangue come tessuto fluido di colore rosso più o meno chiaro e sapore ferroso funzioni del sangue il sangue serve al trasporto lo spostamento nel corpo di sostanze utili e di scarto la protezione difesa dell'organismo dalle infezioni la temperatura attraverso la circolazione di liquidi mantiene costante la temperatura e l'equilibrio mantiene l'equilibrio tra acqua e sali minerali il sistema linfatico il sistema linfatico è formato da linfonodi che filtrano la linfa linfociti difese specifiche inoltre gli organi milza distrugge i globuli rossi vecchi il timo forma i linfociti t le tonsille proteggono l'apparato respiratorio il midollo osseo forma i linfociti b nel complesso il sistema linfatico è un circuito di vasi che scambia per diffusione materiali con il liquido tra le cellule il sistema immunitario può essere non specifico ovvero la pelle i peli le ciglia il muco i globuli bianchi fagociti e specifico quindi i linfociti b che producono gli anticorpi e i linfociti t sentinella oppure assassini oppure di ricordo e memoria delle infezioni avute ed affrontate le malattie dell'apparato circolatorio le principali sono ipertensione arteriosa l'alta pressione favorisce la formazione di coaguli che possono causare infarti ictus o immorragie cerebrali arteriosclerosi è dovuta all'accumulo di colesterone e grassi causa l'inspessimento delle pareti arteriose predispone all'occlusione dell'arteria detta trombosi questo esempio è dovuto ad una dieta ricca di grassi che si accumulano uno strumento di prevenzione da molte malattie sono i vaccini che transitano attraverso il sangue sono composti che stimolano la produzione di anticorpi riducendo i rischi e garantendo l'immunità permanente quindi riducono i rischi o addirittura danno l'immunità che può essere però temporanea o permanente è un diritto individuale e dovere rispetto alla collettività perché attraverso il nostro vaccino proteggiamo anche chi non può fare il vaccino per ragioni mediche circolatori system blood is a liquid connective tissue for nutrition and depuration blood is composed of blood cells 45% suspended in blood plasma 55% the blood cells are mainly red blood cells white blood cells and platelets the red blood cells contain hemoglobin an iron containing protein which facilitates oxygen transport by reversibility binding to this respiratory gas per approfondimenti potete consultare focus junior dove come mi cura rai scuola